Ok quindi ben a tutti ragazzi sono il Gysius Lei già ha iniziato un video cosi o sbaglio? No Si Va bene, ok Il mio ragazzo è giocato che puoi giocciare questa cosa Ok Non è mio, vero? È tuo? Si È quello che crei Va bene, tocca a te iniziare comunque E io sono Alex E oggi iniziamo con The Witch House Mi è stato consigliato da un mio amico questo gioco Quindi iniziamo Begin 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 Un certo sound Pli 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 Cioè svegliamela Cos'è che non ci cade lì? J Bulb Final Un macete Lum Qua ci sgun due roba se Taglialo Sono bloccate Come faccio ad aprire l'inventario? Come faccio ad aprire, che Esc Item Vio Un macete Katrosis Non gli fai neanche un graffio Bene Che rose sono Rose di dio Allora comunque Questo videogioco qua È un RPG Pseudo horror Ve lo faccio in caso Guardate qui Magit Katrosis Ok Comunque In questo gioco Non sono anche io Bisogna andare avanti Bisogna andare avanti Non morire Come in tutti i giochi Sì Entriamo in casa Barra castello Barra Casa della strega Si chiama The Witch House Non so Una porta Perché c'è del sangue? Ok Va bene Game over Va bene Eccolo qua il gatto Salva qua Voi il gatto? Salva qua Cos'è? Ma cosa che c'è Salva da un gatto? Così la strada è bloccata Dalle rose Ma come fa un gatto a parlare Scusa? Ma prima non si è aperta Vuoi entrare? Certo Sicuro Beh Meglio che niente Se non puoi andartene Quindi si entra Ok Qua si evita Vieni la nostra Vieni la nostra Per la sostanza Non lo so Si è dissolto il cartello Stanno giù Si ma giù esco No giù non esco C'è il gatto Io Ho deciso di seguirti per le risate Che bello Intenzionalmente Da dove vieni? Da dove vengo? Io non so Ma perché ci sono svegliati così Mentre il busto Cazzo Non so Proprio Dei regali A Teddy Bear Prendi Teddy Bear Yeah Preso il tic Spare Regali che cavolo Non da nulla Aprilo quando la casa torna alla normalità Perché? Cazzo vuol dire E va bene Qua c'è un po' di bello Ancora? Il cestello Ha un grande orsetto Infilato dentro Ma ci è spazio ancora per un pochino Infiliamoci l'altro terribile Cos'è? Le sue gambe lo rendono troppo grande per incastrarlo Perché dovremmo infilare un perché? Ma che ne so Io sono enigmile Cosa è sta cosa qua? A fuoco Legata Legata Tic Ah giusto è legata Tagliamo l'orsetto Ha senso? Si Ma puoi rinca perché il detenere E beh non ci stava prima Ah si è Ah si e c'è il sangue Perché? Perché un orso dovrebbe avere sangue? Ma non è l'orso di sangue dall'orso Cosa sta? E' un orso di sangue Teddy bear to us E' in basket Sei Sei sbloccato quali cosa Ehh Sei mosso Davvero? Si Gatto Cosa cazzo è? Quello si è sbloccato Quello Oh mio dio Gatto Gatto tu stai qua a ridere e basta Ah perfetto Non si vuole aprire Madonna che infarto E' rotto prima Cosa? Cos'è? Le scarpe Ci sono le gambe Prendile La porta si è aperta Oh la cucina Un teschio Posso spostarla? Vabbè E' una zuppa strana Guarda Oddio E' senta nella testa Niente ma sporco Cos'è questo? Il cuoco occupato Dagli una mano Ok Oddio Avanti Ragno Scarafaggio Ma scusa What up Ma c'è l'ombra E' invisibile C'è qualcuno Invisibile Parla Sono occupato Così occupato Dai una mano Abbiamo una mano Oh grazie La persona invisibile afferra la tua mano Mette sopra il tagliere la tua mano Perché Perché Una mano E' esattamente Quello di cui ho bisogno Oh mio dio Mi ha tagliato il braccio Ma aspetta Io le cose Eh Oh grazie Avevo bisogno Di una mano O due Fammi Fammi mostrare Il mio apprezzamento Una chiave d'argento Che poi lo sta tagliando Il cazzo E' chiusa Una chiave E' questa cosa bella Cosa? Oh mio dio Come un teschio Ah Cos'è questa cosa? Guarda il polaro Ecco Cos'è? Assaggia il veleno? Ma anche no Anche no Ah se ci fa assaggiarlo Ah posso assaggiarlo adesso? Ma anche no Cioè Per lo Piuttosto ci metto la chiave Posso farlo? It Colpiscino Non so Con la chiave No mettila nella zuppa Mettila nella zuppa Perché? Così Diventata nera Cosa? Oh Cos'è? Ci ha mosso qualcosa Oh Tidia che Guardate chi mette via male le cose sulle Chi sei? Il colore di Italia Qualcuno per me Il gatto Ah ok Gatto nero Un gatto Decorativo Ornamentale Perché? Fregato Ah mi sta pigliando per il culo Mi pigliamo pure per il culo il gatto Cioè quindi quel gatto lì mi piglia per il culo Si Molto E' chiugia C'è una piccola Salva Salva Molto Fregato Cos'è questo? Sprecchio Oddio Cosa? Niente Niente RID XXX Ho bruciato la resina No perché l'ho riletto Io non lo leggo E' quindi È troppo brutta No ma hai visto quello dietro? No Che c'era dietro? Oddio la sedia La sedia La sedia che ride? Da quando le sedie ridono? Come le streghe Ah Cosa? Le chiavi non aprono la porta nella casa della strega Qualcos'altro serve come chiave La forma della casa cambia in base alla magia della strega Vabbè Basta che non diventi forma di pene Vabbè Non ci provo di più per bambini C'è quello invisibile Per metterli insieme Tipo Dio cosa c'è? Ah la perfetta lì dentro Salvare Non si vuole aprire Oddio Oddio Non c'è ancora Ma testa umana Dov'è? No C'è una testa umana lì dentro Ah c'è un pezzo di carta Live Group e la barra La bookshelf è smissima Devo salvare più di una volta Cos'è sta cosa qua? Il ragno Ha dei Ah non può vedere Non può vedere i colori Non può nemmeno vedere i colori Dov'è il ragno? Non c'è C'è una ragnatela gigante però Quella fa il fauna Si E' catturata nella ragnatela La prendila Prendila Non ci vuole aprire Cazzo Cacchio Non dovevamo prenderla Alla faccia del ragnetto Ah posso guardare Sarà l'ultimo che guardi Un pezzo di corno Ah ok Per legare i cosi I libri Ah Ah mi stai dando questa? Tendila Grazie Prendi questo Libro della morte Che bello Ok Salviamo e ci fermiamo qua Quindi ragazzi Se vi non ci ho lasciato un vento Otti Perché stai andando in giro? Oddio Abbiamo anche un cavaliere pazzo Che si saluta in giro Quindi ragazzi Se il video ci ho lasciato un commento Detemi piace Iscrivetevi Sostenete questa serie come al solito Quindi Beh ragazzi Sembra che abbiamo appena Arreditato la più importante Delle missioni Wow Capo vuol dire Sì Tenteremo di fermare la meteore G Fia Fermate un team scientifico Per l'analisi della massa Passate al team I dati per avviare Il ricalcolo della rutta Fate una richiesta formale Dalla polizia di satelra Per incrementare la vigilanza Sì signore Wow Proprio Così qua Ne ho passate tanti in questi anni Ma questa volta Non potrebbe esserci nulla da fare Tranne che pregare